Resta di difficile decifrazione la situazione alla Moreschi di Vigevano. Dopo l'allarme lanciato dai sindacati, una delegazione del Movimento 5 Stelle ha incontrato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Non era il primo incontro fra le parti che si erano già viste alla fine della scorsa estate, dopo il passaggio di proprietà dell'azienda dalla famiglia Moreschi al Fondo Svizzero che ha come riferimento Guido Scalfi. Proprio Scalfi, insieme ai consiglieri di amministrazione Paolo Cremonte e Giada Ermolli, ha parlato con la deputata Valentina Barzotti, consigliere regionale Simone Verni e la consigliera comunale Silvia Baldina. La situazione che è stata tratteggiata agli esponenti pentastellati è diametralmente opposta a quella descritta dai sindacati che, denunciando lo stato di cassa integrazione a zero ore per la gran parte del personale, avevano parlato di un'azienda senza ordinativi che non aveva ancora iniziato la parziale riconversione per arrivare alla produzione per conto terzi riservata ai grandi marchi. Il Consiglio di amministrazione ha invece riferito che l'azienda, dalla fase critica da cui era stata rilevata lo scorso anno, è in ripresa e che si trova in linea con quanto previsto dal piano di risanamento formulato dallo studio di consulenza KPMG. Un quadro molto diverso, quindi, rispetto a quello dipinto dai sindacati. Difficile comprendere a questo punto come siano effettivamente le cose. La dirigenza dell'azienda dovrebbe incontrare lunedì il sindaco Andrea Ceffa. Non è ancora stato fissato un incontro con i vertici provinciali e dei sindacati confederali, anche se, secondo alcune indiscrezioni, nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza e una rappresentanza interna all'azienda.